Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Gesù diceva alla folla Così è il regno di Dio come un uomo che getta il seme sul terreno Dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga e quando il frutto è maturo subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura Diceva A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere Senza parabole non parlava loro ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa Parola del Signore Riprendiamo il tempo ordinario Riprendiamo la lettura continua del Vangelo di Marco che è il nostro maestro di quest'anno e oggi lo riprendiamo con due parabolette agricole, diciamo così che tanto piacciono a Gesù Gesù viveva in un mondo fatto di agricoltori, di pastori e di pescatori un mondo immerso nella natura e Gesù fa parlare la natura tutto nella vita quotidiana diventa per Gesù un segno del regno dei cieli del regno di Dio e allora qui abbiamo due semi un seme ignoto che un uomo getta nel terreno e questo seme è il miracolo della vita a cui forse noi ci siamo abituati questo seme spontaneamente dice il Vangelo produce lo stelo poi la spiga poi il chicco allora è un seme di grano e poi il frutto è maturo o di orzo oppure il frutto è maturo ecco è la forza del seme è la forza delle piccole cose è quello che piace tanto a Dio Dio non distribuisce soluzioni non distribuisce pacchetti completi ma Dio dona continuamente semi di vita semi potenti che hanno una forza in loro a noi sconosciuta l'altra paraboletta parla sempre di un seme ma ben definito è il seme di senape il più piccolo di tutti i semi e non so se li avete mai visti ma il seme di senape è proprio una punta di una penna come quando ti fai un puntino sul dito è talmente piccolo che quasi non lo vedi eppure dice quando cresce diventa come una grande pianta e gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra ecco che cosa ci dice con queste parabole Gesù ci dice di avere fiducia nei semi buoni nei semi che Dio semina ma anche nei semi che semini tu tanti genitori dicono ma io ho educato i miei figli nella fede ma io ho cercato di instradarli e invece si sono allontanati non vanno più in chiesa abbi fiducia chissà quello che si è seminato da piccolo io l'ho visto in tante storie prima o poi torna fuori ci vogliono magari più anni ci vuole tanto tempo per la maturazione di questo seme ma i semi buoni hanno una forza a volte che rimane sepulta nel cuore appunto per degli anni ma che poi a un certo punto viene fuori abbiamo fiducia nella bontà dei semi e nella forza del bene abbiamo fiducia che Dio continua a seminare nella storia del mondo semi di bontà e di amore e facciamolo anche noi li ha seminati nella nostra storia li ha seminati nel nostro cuore e forse hanno portato anche frutto nella nostra vita una parola buona un gesto gentile un'attenzione particolare una preghiera tanti semi buoni che hanno crediamolo ce lo dice il Vangelo una forza che noi non conosciamo dice come cresca il seme neppure quell'uomo che lo ha seminato lo sa noi non lo sappiamo noi non conosciamo la forza dei semi del bene e della vita che Dio semina ma se noi partecipiamo a questa seminagione siamo sicuri che prima o poi questo seme maturerà diventerà un grande albero e anche altri verranno come gli uccelli del cielo a mettersi alla sua ombra ecco è questa la forza del bene è questa la forza della parola di Dio che è anch'essa paragonata a un seme se l'accogliamo se l'ascoltiamo porterà frutto Dio ha fiducia in questi semi dobbiamo averla anche noi